Stefania Ceccarini, confermato assessora al bilancio della Comune di San Giustino, distringente attualità, IMU, la TARES. Ci vuole dare delle delucidazioni a questo proposito? Dunque l'IMU è una tassazione che già conosciamo perché anche nel 2012 l'abbiamo dovuta applicare. E nel 2012 abbiamo fatto una tassazione con due aliquote differenziate, quella per la prima casa e quello che era un corpo più grande organico, seconda casa, attività produttive. E con una tassazione che poi siamo riusciti in un secondo tempo anche a riabbassare rispetto a quelli che erano preventivamente state le aliquote decise dal Consiglio Comunale della Giunta soprattutto. e infatti abbiamo portato la prima casa invece che al 4,5 al 4,3 quindi cercando di abbassarla di due punti, anche se so che rispetto agli anni passati dove non si pagava più l'IMU è comunque una tassa. E per le attività produttive il 9,6. Quest'anno pensavamo sinceramente di lavorare su dei regolamenti anche interni, quindi di cercare di venire incontro a quello che è un lavoro fatto proprio specifico per attività commerciali e attività produttive. Speriamo di poterlo fare anche perché in materia di IMU sembra che ricambierà di nuovo tutto, quindi noi andremo sicuramente a lavorare sul bilancio come anno scorso cercando di garantire quelle sono le spese fisse di un comune, quindi le spese sul personale, le spese su alcuni servizi come Asili Nido, come Centri dell'Alto Mare, quindi un centro di urno senza avere una possibilità di cassa perché non possiamo fare quello che è il lavoro su l'IMU visto che a febbraio ci saranno le elezioni, perciò non sappiamo come andrà a finire. Tares, altro nuovo argomento, un argomento sicuramente non di poca importanza perché la Tares va a influire sulle tasche di tutti noi, quindi di tutti i cittadini, cercando di capire bene perché ancora la materia è abbastanza vasta, però di sicuro abbiamo capito che la Tares andrà calcolato sull'indifferenziato che ognuno di noi produce. Questo vuol dire che dovremo fare un programma sicuramente molto direte e molto congruo per quelle che sono le attività del nostro territorio, soprattutto attività legate al commercio, sto parlando di pizzerie, bar, negozi alimentari che hanno un forte scarico di merce non utilizzate, quindi che va a influire sull'umido. Quindi sensibilizzare e dare un buon servizio perché questa nettezza urbana non vada nell'indifferenziato perché sennò si vedono non triplicare ma anche di più quello che è appunto la tassa sulla Tares. Ci toglie una curiosità, quindi di conseguenza più salirà la percentuale di differenziata più diminuirà l'aumento della Tares. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. Infatti stiamo cercando di fare anche un programma ancora più differenziato per la raccolta differenziata perché si va proprio a quantificare la Tares sull'indifferenziata. Quindi dovremmo monitorare anche quello che è l'indifferenziata, fare anche un piano di studio per capire come monitorare la nostra indifferenziata perché non abbiamo una tessera magnetica che ogni cittadino, quindi un codice. Perciò cercare di lavorare su questo e soprattutto veramente sulle attività produttive che sono quelli che hanno più scarto.